Welcome to NASA Home and City, our interactive website that shows you how space has transformed the American way of life. Lui è Gene Bridenstine, confermato nell'aprile del 2018 a capo della NASA, l'agenzia spaziale più famosa al mondo. In questo video ricorda quanto la ricerca spaziale della NASA sia preziosa nel nostro quotidiano e lancia un nuovo sito web interattivo, Home and City. Bridenstine ricorda che le tecnologie spaziali più avanzate ci consentono di navigare, di comunicare, di monitorare le culture alimentari, prevenire disastri, proteggere l'ambiente e limitare i danni da riscaldamento globale e invita tutti a scoprire quanto la ricerca spaziale abbia modificato i nostri ambienti, in città e in casa. Interattivo, grafica accattivante, colori vivaci e atmosfera fiabesca, uccellini, prato all'inglese e alta lena. Così senza troppi giri di parole, Home and City consente al visitatore di approfondire argomenti con un semplice click. Forse non lo sappiamo, ma magari nei nostri armadi abbiamo giacche realizzate con aerogel, un materiale flessibile estremamente leggero ed efficace, o tessuti che consentano il cambiamento di fase, in caso di intenso freddo, come per le tute spaziali. Dal bagno alla cucina, passando per il living room, troviamo oggetti con tecnologie utili a depurare acqua e aria, misurare quanta polvere ancora è presente nei nostri tappeti o proteggere i nostri occhi dalle radiazioni solari. E se vogliamo fare un giro all'esterno della casa, scopriremo che con il materiale riflettente possiamo mantenere il calore dentro o fuori dagli spazi esterni, mentre con HomeBuilder, il software creato per progettare la missione su Marte, possiamo tenere traccia del costo e dell'efficienza energetica, risparmiando quasi il 40% sui costi di progettazione. Lo spazio, afferma Bridenstine, è tutto intorno a noi e soprattutto più vicino di quanto crediamo. Grazie a tutti.